e buongiorno ragazzi benvenuti nel mio primo funny moment questo funny moment ragazzi è composto esattamente dalle vostre clip che sto guardando anche adesso sono magnifiche magnifiche dove le troviamo queste clip sulla piattaforma viola ragazzi link in descrizione mi raccomando seguitemi la ci vediamo tutte le sere tutte le sere tranne che la domenica ma tutte le sere io sono lì lì per voi quindi se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina io ovviamente vi aspetto in live sulla piattaforma viola un bacione raga e buona visione bimbi della cantina ma ciao io direi di andare a prendere l'elicottero pompa? no è caduta la pozza dov'è? dov'è la mia pozza è caduta? rip pozza no è caduta pure quell'altro mi vediamo te 200 200 più il cazzo ho preso nel culo no no sono morto no non sono morto what? oh però mi hai lanciato da un medikit mi hai lanciato da un medikit bellissimo Questo è un gioco di squadra? Ecco... la tranquilla! NO 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 NO! MA CHECCA? NON POISSE... CHECCA? 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 scantinati buongiorno caio ha bisogno delle catene dove le avete messe ah non lo so io raga servono le catene a caio non mi fate scendere di sotto dai va la dai va la dai va la vengo giù io levatemi da no mollatemi no mi vogliono incandedare mi vogliono incandedare brutti fi no no ah ah perché perché ah non lo so io ragazzi sono rimasto malissimo ci sono rimasto malissimo ma che versi sono eh perché volevo far finta di essermi fatto male ma è stato questo momento che conosco che è vero è stato bello non 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 ma c'è pronto ma 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 hai visto non è possibile il pilota romano romano andrea de cesare c'è c'è ah clipa 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 andrea clipa l'ho non ho la cintura vinto non c'ero what is that? what the fuck is that? nope no 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 raga se ci fosse se ci fosse se ci fosse se ci fosse le moto della tromba farei no no ok vai qui andiamo oh come si va su? no 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 sono morto sono morto sono morto sono morto sono morto dio no non ci credo non ci credo sono morto come un coglione non dire manovaccio lo chiamo la polizia no frasce lì eh frasce lì andate giù andate su prendimi e oh oh mio dio mio dio mio dio oh migliore hai cagato? oh mi scusi a parte che son cazzi mie ma un po' di privacy ma c'era il bagno ma avete fatto paura e la tensione